La famosa influencer Giulia Valentina è diventata mamma. A darne l'annuncio è stata proprio lei, solo un'ora fa, attraverso un dolcissimo post su Instagram. Sempre riservata sulla sua vita privata, ma molto attiva sui social per lavoro, Giulia aveva annunciato a luglio di essere in attesa del suo primo figlio, con un video originale, proprio come lei. Oggi, dopo nove mesi, la influencer piemontese ha rivelato di essere finalmente diventata mamma, un momento che segna la sua vita e quella del suo compagno Filippo Bonini, anche egli sempre rimasto in parte nascosto dal suo mondo virtuale. Come ha annunciato di essere diventata mamma? Con un post su Instagram in cui ha semplicemente scritto «fatto», accompagnato da una serie di fotografie che rappresentano le prime emozioni di Giulia dopo il parto. Le immagini parlano d'amore e di vita semplice. Qualcosa che ci unisce e accorcia le distanze tra il mondo virtuale e la realtà. Giulia Valentina ha reso questo momento meraviglioso, unico e semplice, come solo lei sa fare. Senza esagerazioni, senza frasi pompose, solo autenticità. Non ha rivelato dettagli sul suo bambino, come il sesso o il nome, ma ha lasciato che un settimanale svelasse che si tratta di una bambina. Tra i commenti di auguri e reazioni divertenti, spicca anche il like di Chiara Ferragni, che dimostra solidarietà e maturità. Giulia Valentina è amata per la sua semplicità, spontaneità, divertimento e autoironia, qualità che la rendono unica nel mondo delle influencer. Congratulazioni a Giulia per questo meraviglioso traguardo e auguri per una vita.